Il Comune di Termoli rischia il dissesto finanziario. A denunciarlo il consigliere comunale di minoranza Antonio Di Brino che con numeri e carte alla mano ha ricostruito i bilanci degli ultimi anni spiegando anche perché non ha partecipato all'ultima assise proprio per protestare contro le irregolarità e quello che è diventato ormai un modus operandi di questa amministrazione affermato Di Brino e cioè una continua violazione delle procedure dei tempi per la discussione del bilancio. L'esponente di Direzione Italia ha spiegato che il documento di programmazione finanziaria è stato approvato il 26 maggio quando i termini per legge erano fissati al 30 aprile, che la relazione dei revisori dei conti è stata consegnata solo due giorni prima dell'assise ai consiglieri e che così come prevede il testo unico non ci sono stati 20 giorni previsti di discussione in commissione. Violazioni delle procedure insomma che ormai secondo Di Brino si ripetono da anni. Non solo il consigliere ha messo in evidenza alcune criticità come l'aumento vertiginoso dell'anticipazione di cassa degli ultimi anni così come la crescita esponenziale dei residui attivi che sono schizzati a 42 milioni di euro. Secondo Di Brino si gonfiano i residui attivi per mantenere in piedi il bilancio così si rischia la bancarotta, ha detto. Ci sono criticità sia di sostanza cioè nel merito della situazione finanziaria del comune ma ci sono state anche criticità sul piano delle procedure della trasparenza e della legittimità degli atti e dei tempi di approvazione degli atti di bilancio. Noi abbiamo una situazione pericolosissima perché abbiamo oltre 40 milioni di euro di residui attivi che sono delle poste di bilancio che non sono certe, non sono liquide, non sono esigibili e sono quelle poste di bilancio che in qualche modo garantiscono gli equilibri di bilancio. Questa amministrazione in particolare continua a spendere in termini di consulenze, di incariche e di quant'altro e la mia impressione che veramente si vada verso il default mi sembra di vivere la vicenda del Titanic per cui la nave affonda e l'amministrazione sbrocca continua a suonare l'orchestra o il partino, quello che volete. L'ex sindaco ha criticato in ultimo anche la recente scelta del comune di concedere il MACT, cioè una sala pubblica per l'assemblea regionale del Partito Democratico.